Il pareggio è tutto sommato positivo per il Cutro che ha giocato bene nella prima frazione e anche negli ultimi 20 minuti del secondo tempo? Di positivo c'è la prestazione, i ragazzi nonostante avevamo parecchie difficoltà, parecchi problemi, credo che abbiano fatto una prestazione maiuscola. Sono contento di questo, potevamo vincere, queste partite si possono perdere perché è stata una partita equilibrata, però noi abbiamo dato il massimo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quindi c'è solo da dire bravi ai ragazzi. Una prestazione positiva e questo campo si conferma essere ferma grandi, soprattutto dopo gli stop contro Castrovillari, Acri, Gallico-Catona e oggi anche il Siderno si blocca qui in questo stadio? Sì, assolutamente, ma noi abbiamo fatto quasi sempre delle grandi prestazioni e credo che questa squadra se fosse stata al completo abbiamo avuto veramente tanti problemi, potevamo dare ancora filo da torcere ancora di più a queste grandi squadre e magari potevamo già essere salvi. Purtroppo c'è, nonostante i complimenti che riceviamo ogni domenica, nonostante tutto, ancora dobbiamo guadagnarci questa salvezza, però credo che con questa mentalità, con questa voglia possiamo raggiungerla tranquillamente. Una squadra che gioca molto bene da quello che ho visto e che fa giocare bene anche gli under, uno tra tutti Bellia che mi ha convinto particolarmente, quindi una tattica molto giovane della sua squadra. Noi anche oggi come domenica scorsa per l'ennesima volta abbiamo già schierato i quattro under dietro, Bellia da parecchie partite che stava facendo alla grande, ma io sottolineerei la prestazione di Ombrella che si è dovuto adattare a sinistra perché oggi a noi ci mancava Le Rose, Folino, Camarà, Marino, tutti i giocatori che potevano giocare in quella zona e quindi non avevamo nessuno. Credo che ha fatto Ombrella una partita sardinale, Cappellupo un altro 2000, ha giocato al centro della difesa, Ortolini davanti. Io credo che questi ragazzi abbiano fatto bene, abbiano fatto la differenza durante la stagione e la nostra forza è stata proprio di mettere questi ragazzi nei punti cardine. Di solito nell'asse centrale non si schierano mai under, invece noi l'abbiamo fatto quasi sempre, quindi facendo giocare i 2000 al centro della difesa, il 99 Bellia in mezzo al campo e Ortolini spesso che ha giocato davanti a combattere contro giocatori più esperti di lui.